Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, di tutte le consapezze di Dio e invisibilità. Credo in un solo Dio, Gesù Cristo, un rigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio è Dio, luce della luce, lo vero è Dio, generato non creato nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, esce il servo del Cielo e per opera, per la scuola di Dio, si è incarnata sempre la Vente di Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi, sotto a Ponzio Milano, morire e ci fosse volto, il terzo giorno è resuscitato, secondo le scritture, è saluto al Cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo a Ponzio Milano, per giudicare i figli di molti, nel suo regno, nella fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio, è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti, credo nella Chiesa, una Santa Cattolica, e a Ponzio, professo di un solo battesimo, per il perdono dei peccati, e aspetto la riferizione dei morti, e la dignità del mondo, pregherà. Amen. Preghiamo insieme e diciamo, rinnova le nostre famiglie, Signore. Rinnova le nostre famiglie, Signore. Per la Santa Chiesa di Dio, perché esprima al suo interno e nei rapporti con il mondo, il volto di una vera famiglia, che sa amare, donare e perdonare. Preghiamo. Rinnova le nostre famiglie, Signore. Per la famiglia, piccola Chiesa, perché ispiri ai vicini e ai lontani quella fiducia nella provvidenza, che aiuta ad accogliere e promuovere il dono della vita. Preghiamo. Rinnova le nostre famiglie, Signore. Per le famiglie di profughi ed emigranti, perché possano sperimentare l'accoglienza solidale e fraterna dei cristiani, che lenisca le sofferenze e ravvivi la speranza per un futuro di giustizia e di pace. Preghiamo. Rinnova le nostre famiglie, Signore. Per noi, perché, come la Santa Famiglia, frequentiamo il nuovo Tempio, che è la Chiesa, e come Simeone ed Anna, riconosciamo in Gesù il Figlio di Dio fatto l'uomo. Preghiamo. Rinnova le nostre famiglie, Signore. O Dio, che in Gesù, Giuseppe e Maria, ci hai dato una viva immagine della tua eterna comunione di amore, rinnova in ogni casa le meraviglie del tuo Spirito, perché tutte le famiglie possano sperimentare la continuità della tua presenza. Per Cristo nostro, Signore. O Dio, che in Gesù, Giuseppe e Maria, ci hai dato una viva immagine della tua eterna comunione di amore, che in Gesù, Giuseppe e Maria, ci hai dato una viva immagine della tua eterna comunione di amore, che in Gesù, Giuseppe e Maria, ci hai dato una viva immagine della tua eterna comunione di amore, che in Gesù, Giuseppe e Maria, ci hai dato una viva immagine della tua eterna comunione di amore, in Gesù, Giuseppe e Maria, ci hai dato una viva immagine della tua eterna comunione di amore, Pregatevi, sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia, chieda Dio, Padre onnipotente. Signore, questo sacrificio di solvezza e per intercessione della Vergine Madre di San Giuseppe fa che le nostre famiglie vivano nella Tua amicizia e nella Tua pace. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E' veramente cosa buona è giusto, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre, Santo Dio, onnipotente ed eterno, perché il suo Signore è nostro. In Lui oggi risplende in piena luce il misterioso scaglio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, l'uomo mortale è innalzato a dignità perenne e noi, uniti a te, in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Sancto, 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 Sancto e Signore, Dio del universo, Sancto, 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 San Viene io con lui che viene, nel nome del Signore. Hosanna, Hosanna, Hosanna nel alto dei piedi. Padre veramente Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventano per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e prese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse, «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio offerto in sacrificio per voi». Dopo la cenina, allo stesso modo, prese il calice e prese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse, «Prendete e prevedetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». «Mistero della fede» «Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa dell'avvento». «Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci amici alla tua presenza, a contere il servizio sacerdotale. «Ti preghiamo umilmente per la comunione al tuo figlio e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riorisca in un solo corpo». «Dicordati, Padre, della tua chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi parte i civili della sua vita immortale. «Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Filippo e il tutto l'ordine sacerdotale». «Ricordati dei nostri fratelli che sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. «Metteli a godere la luce del tuo voto, di noi tutti abbiamo misericordia, donaci Dio per pazza e la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo li furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo figlio, canteremo la tua gloria». «Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a Te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito d'Ammeno, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli». «Obedienti alla parola del Salvatore e il suo irmano, dal suo divino insegnamento, osiamo di io». «Padre Cristo, che sei in Cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo nome, sia fatta la tua volontà, come in Cielo che si interrumpi e il tuo nome, sia fatta la tua volontà e l'unità di cui finiscono il tuo nome. Ma liberaci dal male, liberaci o Signore di tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni inturbamento, nell'attesa che ci compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla vere della tua Chiesa e donare, dai pace secondo la tua volontà, tu che vi arregni dei secoli, dei secoli, la pace del Signore. Signore sia sempre con voi, cambiatevi un segno di pace. Signore è la pace delidelity, la pace e di tutti i mali, tra chi 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 e di tutti i mali. Signore è il tuneso Cristo che hai detto ai nostri peccati, almeno il nostro Salvatore Gesù Cristo. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'Aiello di Dio, che con gli egli beccati del mondo, non è di farle fare la tua mente, ma di salutarla con la morte del Dio su questo padre. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.